che insieme a me hanno colto il vero senso delle parole di Salvini quando dice che abbiamo il nemico in casa. Ecco, anche io penso che abbiamo il nemico in casa, ma non penso che sia di fede musulmana. Le più grandi stragi attentate in Italia sono di matrice italiana. La più grande organizzazione terroristica attiva sul territorio che miete più vittime in assoluto si chiama mafia. E prima di chiedere a tutti i musulmani di prendere le distanze dai fatti di Charlie Hebdo, bisognerebbe chiedere a tutti gli italiani di prendere le distanze dalle stragi mafiose e dai fatti e gli avvenimenti di mafia capitale. Perché quando la mafia ha fatto una strage a Duisburg, nessuno è venuto in porci di chiedere scusa in quanto italiani. E di fatti nessuno l'ha fatto. Ecco, io spero che questo sia un vero evento di presa di coscienza collettiva. Avrei voluto vedere meno simboli e bandiere per questo, sono sincero e impopolare. Perché spero sia veramente un evento che porti a qualcosa di concreto. Perché l'unico modo per dire con orgoglio che noi siamo Charlie e non Charlie e non Charlie e avere il coraggio di puntarci il dito contro è... come dire... E non è la solidarietà sterile delle foto su Instagram e Twitter. Perché ricordiamocelo e non dimentichiamocelo mai, che il più grande nemico dell'Italia sono gli italiani. Grazie. Come ha preannunciato prima la portavoce Carla Ruocco, ieri siamo stati contattati dal Presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, il quale ci ha convocato martedì prossimo al Nazareno per discutere del Presidente della Repubblica. Noi abbiamo deciso di risponderli, ma il Movimento è questo, non risponde un portavoce o un altro. Abbiamo deciso di risponderli tutti assieme, quindi vi chiederò assieme di leggere la risposta che verrà tra pochi istanti proiettata nel Maxi Schermo, leggerla con la dignità, l'onestà che ci contraddistingue. Questa è la nostra risposta al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Prego. Caro Renzi, è il popolo italiano che le parla. Il Presidente della Repubblica non può essere di parte. La sua figura di carante dell'unistà deve essere rappresentativa e condivisa. Questo era l'auspicio dei nostri padri costituenti, quando scrissero nell'articolo 38 della Costituzione che per i primi tre scrutini fosse necessaria la maggioranza di due terzi. Lei invece ha già deciso che il Capo dello Stato sarà eletto dalla quarta votazione in poi, quando sarà sufficiente solo la metà più uno dei voti. In questo modo il nome del nuovo Presidente sarà espressione del volere di un partito solo, quello suo e di Berlusconi, il partito del Nazareno. Per eleggere un Capo dello Stato che sia il Presidente di tutti, lo si elegga entro i primi tre scrutini. Solo così tutti gli italiani potranno davvero essere orgogliosi del nuovo Presidente della Repubblica. Renzi, fuori i nomi! È la prima volta nella storia della Repubblica che un popolo intero risponde al Partito Democratico. Noi, a largo del Nazareno, con tutto rispetto, c'è andato Berlusconi, noi non ci andiamo. Chiediamo gentilmente, cortesemente, con tutta l'apertura del mondo, perché ci contraddistingue questo, l'apertura, perché abbiamo nell'interesse esclusivo l'interesse della collettività e del popolo italiano, chiediamo che Renzi i nomi non li faccia al Movimento 5 Stelle, ma li faccia al popolo italiano e alla nazione intera. Fuori i nomi, Renzi! Fuori i nomi, Renzi! È il popolo italiano che lo chiede. Fuori i nomi! Noi poi li sottoporremo alla rete e decideranno gli iscritti in maniera onesta e trasparente, non nelle segrete stanze del potere. Mafia Capitale è soltanto l'ultimo degli scandali, ma ripeto, spesso uno scandalo ce ne fa dimenticare un altro. In quest'anno, durante gli ultimi 12 mesi, sono esplosi altri due scandali.